Dalla Catechesi di Satana di Padre Pellegrino Ernetti. Mephistofele, il primo dei terroristi. Ho appena incontrato Mephistofele, travestito come Mandrake, ampio mantello nero, slanciato e con le corna nascoste, sguardo di fiamma. L'ho riconosciuto per il suo sogginio diabolico. Egli attraversa la strada per salutare. E qui comincia il virgolettato, comincia a parlare il diavolo. Ti auguro un maledetto anno 1971, che tu abbia il miglior successo, sacro prete, nelle tue iniziative. Per quanto mi riguarda, io sì che ho la sicurezza del mio successo, soprattutto dopo il concilio. Tu sai che io sono il primo terrorista in campo religioso. Sono riuscito a compiere il mio anticoncilio per mezzo di una parte del clero e dei preti progressisti. Insieme noi demoliamo le vostre tradizioni. Perfino lo stesso Papa ha dovuto riconoscere la mia abilità allorché ha parlato di autodemolizione nella Chiesa. Ah, forse tu pensi che il cielo sia più forte di me? Permettimi di ridere. Ascolta, vedrai come non c'è nessuno che possa resistere alla mia rabbia di distruzione da quando il Signore mi ha permesso di rovinare il mondo. Il tuo San Pietro, che non era uno stupido, ha detto che io sono un gran divoratore. E' vero, cita il passo che nella compietta antica si reggeva tutte le sere. Adesso, in quella nuova, sul martedì, il vostro leone ruggente, il vostro nemico, il diavolo come leone ruggente, va in giro cercando di divorare. Questo è un gran divoratore. E il tuo Cristo, che si rifiutò allora di adorarmi, mi ha però consacrato come principe di questo mondo. Guarda, tutte queste città mi appartengono. La folla grida pane e divertimenti, come nell'antica Roma. Sapete com'era il motto dell'antica Roma? Tutto degli imperatori che volevano tenere buono il popolo. Panem et circensem, si diceva. Cioè il pane e il circo, quindi i giochi del Colosseo. La variante moderna è pane e divertimenti. Quindi mangiare e divertirsi, bere e divertirsi. Anche nelle vostre opere, nei vostri teatri, continuate a cantare Il vitello d'oro è ancora in piedi. Si incensi alla sua potenza, al capo, all'altro del mondo. Io ho distrutto la fede. Il Papa stesso l'ha detto, parlando della crisi della fede. Ho distrutto la morale. I miei demoni impuri trionfano dappertutto. Ho distrutto la religione. Le chiese si svuotano. E le bestemmie sostituiscono le preghiere. Ho distrutto la famiglia. La prostituzione generale. E gli innocenti vengono massacrati con l'aborto. Ma lascia che scenda nei dettagli. Delle mie vittorie. Di crisi in crisi, il mio trionfalismo sostituisce quello di Cristo. Leggere queste cose, ripeto, 52 anni dopo, a partire dalla vera radice dei mali, l'anticoncilio infiltratosi per mezzo dell'azione satanica, lo dice lui stesso, nel concilio cita un discorso di Paolo VI, verissimo, è lui il Papa allora, dove lui stesso parlava e diceva, che cosa sta succedendo? Volevamo rinnovare la Chiesa, ma qui stiamo di fronte a un processo di autodemolizione della Chiesa, cioè la Chiesa che si distrugge da sola. No comment, no, riguardo questa espressione. E poi quell'altra. Il Papa, Paolo VI, che dovette constatare e riconoscere una spaventosa crisi di fede. Paolo VI scrisse, tra le altre cose, proprio per contrastare questo andazzo, ma senza riuscirvi, il credo del popolo di Dio. Va bene, andiamo a sentire nel dettaglio, perché prendi questi quattro punti, quindi la crisi di fede, la crisi della morale, la crisi della religione e la crisi della famiglia e li analizza a modo suo, ovviamente, sentiremo nel dettaglio. Guarda, dentro la Chiesa io ho aperto una piccola porta, è di là che sono entrati i miei amici. Voltaire con il suo odio contestatore, Lumière con il suo cinema corruttore e Lutero con il suo libero esame, Marx con il suo comunismo atio, Marcuse con il suo nichilismo, Lenin e Mao con il loro lavaggio dei cervelli e Freud con la sua psicanalisi. Allucinante proprio, eh? Ma soprattutto sono riusciti a far penetrare l'eresia nella Chiesa, riuscendo ad ingannare perfino dei religiosi e dei prelati. Il tuo Cristo ha predetto che io sarei riuscito ad ingannare perfino gli eletti. Ho fatto entrare i vescovi olandesi con il loro catechismo eretico tradotto in tutte le lingue. E poi la caterva di professori di catechesi è pastorale con la loro principale preoccupazione, un pingue salario, i divertimenti, la sessuologia, l'amore sensibile che fa dimenticare quello di Dio. Vittoria di Satana, ho ucciso la fede, ho ucciso Dio, o meglio, io sono Dio. Io lavoro anche per distruggere le bellezze della creazione. Per mezzo dei miei amici artisti ho impresso dovunque la mia smorfia artistica, nelle arti, nell'architettura, nella poesia, nella musica. Ho demolito l'intelligenza degli uomini con la droga ed ora, nella loro follia, gli uomini adorano. Satana sotto la sua maschera moderna. È triste doverlo al momento constatare, ma al momento tutte queste cose, non soltanto che non sono finite, ma sono giunte agli apici. certo che 52 anni dopo ancora non sono finite, però ancora non sono finite. Secondo, crisi della morale. Qui la riuscita è facile, l'uomo è soggiogato dalla preoccupazione del suo corpo, della carne, del suo ventre, e ne fa un Dio, l'ha detto bene Paolo di Tarso. Nella pubblicità non si fa che parlare delle cure che si devono alla pelle, della bellezza carnale, la donna viene presentata nuda e si dimentica l'anima, bisogna godersi la vita e si dimentica l'eternità, il peccato, il demonio, l'inferno, spauracchi per i bambini. Il cinema corruttore staglia sotto gli occhi di tutti ogni tipo di vizio. I giovani ignorano i comandamenti di Dio, la pornografia celebra il culto dell'uomo animale. I vostri cattolici pagani, bello questo, festeggiano Bacco e Venere come facevano una volta a Roma e a Corinto, dove si portava in processione un ubriaco ed un oggetto sceno, Bacco e Venere. Anche a Montreal, del resto, l'8 dicembre dello scorso 1968, i vostri giovani in piena chiesa di Notre Dame hanno lanciato dei nitriti di russuria. Questo io non lo sapevo, posso ricordarlo perché non era nato, però 8 dicembre del 68, quindi profanazione della chiesa di Notre Dame a Montreal attraverso presumibilmente il complimento di atti russuriosi al suo interno. Avete anche dei giovinastri che si proclamano figli di Satana e Heldrivers qui c'è un errore guide per l'inferno. Durante i loro festivals pop li ho spinti al parossismo per mezzo della droga si preparano alla possessione diabolica. vittoria di Satana anche qui oggi alcune cose non le cita perché oggi c'è anche tutta quanta l'arricchimento con la problematica omo e transa un altro po' di carne al fuoco in mezzo a questo verminaio che già c'era allora. Crisi della famiglia la famiglia l'ho colpita alla radice dopo aver distrutto l'autorità dei genitori distrutto l'autorità dei genitori divorzio pillole sterilizzanti e soprattutto aborti a milioni omosessualità amore libero fornicazione disprezzo del matrimonio e della castità la donna è sviata dal suo ideale materno e i bambini sono lasciati loro bassi istinti negazione del peccato originale e di tutte le sue conseguenze sviluppo della personalità senza Dio presto la farò finita con questa maledetta razza che pretende ancora di andare in cielo per prendere il posto degli angeli ribelli qui viene svelato il segreto dell'odio satanico loro sono stati cacciati dal paradiso non vogliono che gli uomini vadano scusate a prendere i posti degli angeli ribelli anche questo vedete come sorprendente cronaca di ordinaria quotidianità peggiorata tantissime volte qui per esempio non non citare libere convivenze i divorzi sì perché era da un anno che era entrata in vigore in Italia la maledetta legge fortuna la fornicazione sì l'amore libero sì l'ispresso del matrimonio della castità sì ma non cita il dilagare adesso le libere convivenze sono fornicazioni che diventano pubblici scandali crisi della religione ed ecco il mio successo più grande sono riuscito a svestire i sacerdoti e le vergini consacrate ho fatto sparire la tonaca e gli abiti religiosi e oggi insomma quanto pare se qualcuno lo porta viene rimproverato da chi dovrebbe encomiarlo o meglio semplicemente gli stai facendo mezza parte dell'obbligo tuo e manco tutto perché portare la tonaca è osservare la legge tuttora vigente per ora di santa madre chiesa che piacere attenzione adesso alle signorine poter vedere in mezzo alla strada le donne cattoliche in pantaloni o in minigonne ha detto mefistofele non don leonardo o e poi nella spiaggia in bikini e presto in monochini si vede che nel 71 ancora il topless non era stato ancora inaugurato come delle vacche e vacchette ho detto ho detto sempre mefistofele io non ho detto una parola non ho fatto manco più sto leggendo pagina 179 per chi sta vedendo la diretta di questo libretto qui per chi sentirà il podcast che non si vede il video pagina 179 della catechesi di satana di padre pellegrino ornetti esorcista della arcidiocesi di venezia a suo tempo morto in concetto di santità sono perfino riuscito a svestire i prelati eccoli tutti quanti vestiti come i laici dice sempre mefistofele io non dico neanche una parola a poco a poco abbandonano le insegne della loro dignità i vescovi sostituiscono la loro bella croce pettorale con due pezzi di legno incrociati falsa povertà dice sempre mefistofele mentre se ne stanno altrove a sciupare il denaro sterco di satana tutte queste cose ovviamente no sono passano come no ma bisogna essere un po' più pratici un po' più un po' più dimessi tutti quanti questi abiti sontuosi ah no ma a me è meglio essere un pochino più umidi no passano così questo è commento mio però mefistofele ha detto quelle cose lì ah lascia che ti faccia ricordare un bel fatto nel 1910 durante il congresso eucaristico di Montreal sempre Montreal di mezzo mentre si svolgeva la processione del santissimo sacramento i massoni fecero lanciare un porco davanti al vescovo che portava lo stensorio magnifico si può tranquillamente andare a controllare nelle fonti ma sicuramente è vera questa informazione ora vedrai presto le vostre belle chiese saranno demolite e sarete costretti a scendere nelle catacombe ancora questa cosa non è successa quindi chissà la celebrazione della parola e la cena sostituiranno la messa a sacrificio che abborrisco perché è proprio quella che salva il mondo ora le celebrazioni della parola dilagano specialmente in certi ambienti ecclesiali usiamo questo termine un po' più generico tanto chi vorrà e potrà capire capirà la cena che sostituisce la messa a sacrificio ancora non è perfettamente compiuto però nel nuovo sordo miss c'è stato un forte spostamento dalla dimensione sacrificale della santa della santa messa all'esaltazione invece della dimensione del banchetto della cena quindi con l'esaltazione della comunione sacramentale eccetera per prima le vostre chiese saranno trasformate in sala di riunioni dialoghi danze con musica jazz con chitarre e batterie come in locali notturni a questo quante ne volete l'organo il latino il gregoriano come pure la polifonia classica spariranno ormai roba ad altri tempi superata pare che molti prelati usino spesso questo termine queste sono cose che andrebbero bene 60-70 anni fa ormai sono superate io spingo per la concelebrazione dice sempre Mefistoferi e l'intercomunione tra preti cattolici e ministri protestanti e rabbini ebrei la concelebrazione non è diventata una piaga dilagante dappertutto e ci sono alcuni posti alcune chiese dove non ti fanno celebrare se non nella forma della concelebrazione non è una sola sono tantissime o l'intercomunione ci stanno lavorando da un pezzo non è ancora pronta ma sono anni che ci stanno lavorando e contiene una circolare rumors che sia ormai indirittura d'arrivo te lo ripeto bisogna dissagrare tutto come nella Russia sovietica in vano il Papa implora rispetto del sacro nessuno più l'ascolta basi sacri abiti ornamenti liturgici sono venduti dagli stracci vendoli la comunione in mano fa cadere per terra delle particelle di ostia e il corpo di Cristo è calpestato adesso ormai dilaga penso che saremo arrivati forse al 90% 95% in alcuni posti il 100% delle comunioni in mano proprio ieri ho postato dei messaggi dell'apparizione della Madonna del Buon Successo riconosciuta dalla Chiesa dove si parla di questo verranno tempi in cui il mio figlio Gesù Cristo sarà calpestato dai vostri mondi piedi eccoli le donne che servono l'altare mai tra poco le avremo anche in forma istituzionalizzata spingono i sacerdoti a sposarsi in una diocesi in pieno territorio di Quebec in 10 anni avete perso 22 preti numero diventato irrisorio adesso che hanno buttato la tona a Galliorti che si sono sposati un successo magnifico il popolo cristiano ha perso il rispetto per il sacerdote che è diventato un uomo come tutti gli altri confermo io quando vado in giro che ne so ristoranti che ne so bar negozi signore che desidera signore non credo che intendano signore come la traduzione italiana di dominus cioè di donna non sono manco buoni più additte padre o reverendo tu sei signore non è che lo dico perché ci tengo in qualche modo ma è evidente è evidente un chiaro segno di dissacrazione no? ha perso il rispetto dei religiosi e delle religiosi che sono diventati mondani dopo aver rinnegato lo spirito dei loro santi fondatori dappertutto l'educazione cristiana viene messa da parte neutralizzata dall'educazione laica le scuole oggi sono veramente diventate un ricettacolo di laicismo galloppante dove di cristiano non c'è più nulla la generazione nuova senza fede nel legge diverrà terrorista e rivoluzionaria 71 le brigate rosse di lì a poco avrebbero cominciato a dilagare per mezzo del suicidio la condurrò alle porte dell'inferno vittoria di satana presto la cattolica Italia diverrà un paese comunista e ateo comunista non lo so ateo ci siamo già diventati o poi sarà la terza guerra mondiale ad offrirmi la possibilità di inabissare milioni di anime dannate non serviam vittoria di lucifero l'anticristo l'avversario di cristo io sono il re del mondo figli di satana combattete i figli di dio davanti a dio state bene in piedi non genuflettete cantate l'internazionale oggi ho dovuto rimproverare altro che in piedi un tizio che non era certamente della parrocchia viene in chiesa ammessa e durante la consagrazione l'ho visto con la gola dell'occhio siccome tutti si erano inginocchiati e lui dovevano fare che stavano lui che si è messo seduto ovviamente l'ho rimproverato quando a tempo opportuno davanti a dio state bene in piedi non genuflettete e cantate l'internazionale non genuflettete state bene in piedi state bene in piedi ci sono messe anche in alcuni ambienti ecclesiali dove stare in piedi è obbligatorio è proibito inginocchiarsi altro che è diventato una consuetudine e una moda dannati di tutta la terra in piedi godetevi il vostro paradiso qua giù perché domani sarete dannati all'inferno all'istante Satana stringe Satana tace scusate stringendo le labbra in una smorfia spaventosa e paralizzato da una potenza superiore di fronte a lui si staglia l'arcangelo San Michele che con la sua spada gli lancia un raggio laser che lo fulmina dicendo chi osa attaccare Dio e la voce dell'arcangelo si ripercuote ad ogni eco come un tuono all'istante esplode una bomba dal fumo nero inghiottendo Mephistofere primo terrorista conclusione le quattro crisi citate della fede della morale della religione della famiglia sono i terribili e terrificanti effetti dell'infernale presenza di Lucifero nel mondo occorre seriamente riflettere sulla sua nefasta opera ed opporre il sangue di Gesù per vincerlo l'apocalisse ci dice chiaramente hanno vinto il dragone nel sangue dell'agnello commenti penso che siano li ho fatti un pochino durante la lettura non risparmiando un po' ironia perché è il minimo insomma che con cui si possa reagire dinanzi a certe cose però è veramente impressionante di constatare come 50 anni dopo queste cose non solo sono diventate realtà ma purtroppo non se ne vede al momento la fine alcune ancora no terza guerra mondiale incombe minacciosa alimentata anche dal dal terrore messo in giro dalle informazioni dalle delle notizie ma ancora grazie a Dio non è successa speriamo che non abbia a succedere mai però credo che sia abbastanza edificante anche se certamente non gradevole e utile per riflettere un po' ascoltare queste confessioni sataniche